L'Unione Europea può fare molto per tutti noi che crediamo nel welfare, può aiutare i Paesi membri nel sostenere i diversi welfare state nazionali e può anche creare i primi semi di un welfare europeo, non certo per fare un superstato, ma per realizzare gli interventi sociali indispensabili affinché le transizioni ambientali e digitali siano eque. Gli Stati membri non bastano. Poter fare non significa però fare. Se guardiamo a cosa l'Unione ha fatto, vediamo certamente successi importanti come il varo nel 2017 del pilastro europeo dei diritti sociali, da cui poi è scesa una mole di interventi, ma vediamo anche tante mancanze. Basti pensare allo stop alla direttiva sui lavoratori delle piattaforme o al varo di un patto di stabilità e crescita che rischia di limitare le azioni nazionali in materia di welfare, tornando a subordinare quest'ultimo alla crescita anziché viceversa come la giustizia sociale vorrebbe. Bisogna allora affrontare direttamente queste mancanze. Come? Il libro propone diverse soluzioni praticabili fin da oggi.